Ciao ragazzi e clienti di Music Store, siamo allo stand di RCF, lui è Emanuele, un designer del monitore del studio, cosa di nuovo? Questi sono dei nuovi oggetti, dei nuovi studio monitor che abbiamo disegnato per gli studi di registrazione e che hanno un prezzo estremamente competitivo in relazione alla loro qualità. Abbiamo a disposizione tre modelli, abbiamo i 5 pollici, i 6 pollici e l'8 pollici. Sono tutti quanti amplificati, attivi, hanno la possibilità di avere diversi controlli tra i quali anche l'attenuazione delle alte frequenze e sono disponibili entro breve tempo presso i negozi di strumenti musicali della Germania e di tutta Europa a prezzi estremamente competitivi che sono per una coppia di casse dai 300, 400 e 500 euro. E la disponibilità? Entro molto breve. Mille grazie, tutte le informazioni sul sito internet musicstore.de Ciao ragazzi!